Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, oggi nuovo video ma prima di iniziare con il video vi invito a seguirmi sui miei social che vi lascio sempre in sovraimpressione, di fianco il solito video clip se volete donarmi qualcosina per sostenere il mio canale e a me ve ne sarei veramente grata, e sotto nell'info box ci sono i miei soliti gruppi facebook e la mia pagina facebook se vi fa piacere andate a dare un'occhiata e sempre se vi fa piacere condividere questo video nei vostri vari social e se ne sei iscritto e iscritto al mio canale ti invito a farlo ok ragazze bande le ciance ciance le bande come avete capito dal titolo video per quanto riguarda mia crystal sunset sempre appunto per quanto riguarda le pietre mi ho acquistato solo esclusivamente robe dei gioielli quindi collane braccialetti queste cosine qua e in più ho acquistato anche da mila macramè che è una ragazza su instagram che poi abita praticamente vicino casa mia più o meno ci vuole una mezzo non ne manco una mezz'oretta una ventina di minuti ad andare da lei infatti sono andata direttamente da lei a prendere tutte queste bellissime cosine ma prima cosa vi faccio vedere però due collane che mi ha realizzato sempre in macramè diciamo così Sara ciao Sara un bacio grande io ho dato delle mie due pietre e me la realizzate lei con tranquillità e sono veramente carine perché bravissima a fare queste cose quindi parto con lei dopo vi parto con mia poi con mila allora come prima con lana a e oltretutto adesso ve le faccio vedere così dopo ve le faccio vedere anche indossate così vedete più o meno come l'effetto ad osso allora la prima è questa che è con la malachite queste sono tutte perline che aveva lei ci ha messo appunto una perlina verde che appunto rispecchia la malachite poi quest'altra è trasparente una perlata qui trasparente qui ha messo questi due e ha fatto questo intreccio di cordoncina veramente carino e ragazzi l'ho vista farlo perché questa l'ha fatta a casa mia insieme a me ci vuole parecchio tempo veramente e questo effetto qui si chiama macramè poi vi faccio vedere un altro tipo di macramè che sta ragazza proprio lo fa proprio come lavoro invece Sara c'è solo cementata ma tanto del cappello perché è stata veramente brava e questa è la cordicina qui pure ci sono le due perline che poi dopo voi quando la mettete questo qui oltirate lo stringete insomma vedete voi se troppo lunga troppo corta vedete voi quindi questa è la prima veramente veramente bella e poi me la sono fatta fare un'altra con la labra dorita e grezza questa malachite burattata questa è la parte dietro se vuole metto a fuoco mi fa un favore devo non mettere più a fuoco vabbè e questa qui la parte davanti ovviamente col flash della labra dorita ovviamente c'è guardate che roba e non capisco perché ma ecco ovviamente la parte davanti mi sono fatta lasciare questa quindi questa il collo si mette così perché almeno anche col sole cioè la gente quando passi se vede sti flash guardate che roba bellissimo qua ha messo appunto blu perché la labra dorita e questa va sul blu le perline blu e trasparenti qui ha messo lo stesso questo la perlina bianca queste argentate sempre l'intreccio bellissimo con le perle e qui oppure trasparenti sempre con nodino che sempre lo potete regolare insomma pratica voi praticamente voi veramente bellissime quindi grazie mille sarà sono veramente veramente belle adesso invece possiamo le cosine che ho preso da da mia allora ho preso questi due bracciali veramente belli però era un restocche precedente cioè guardate se bello è tipo effetto cioè pare un diadema come avete visto pare di adema che si mette in fronte no e invece ha braccialetto ma veramente stupendo con l'ametista faccio vedere bene guardate qualche sflescini è bellissima poi mi mi piacciono i bracciali così tipo indiani ottone sta roba qua questo è veramente bello riflesso qua adesso ve lo faccio vedere indossato i braccialetti ve li faccio vedere così indossati cioè che vi casca praticamente così cioè potete mettere anche un po più su volendo è potete mettere anche qui che le sta così poi per chi è che al braccio fino lo può mettere anche fino a suo al braccio proprio c'è stupenda questo po se stringete un altro po' è veramente bellissima bello so bracciale bellissimo e poi quest'altro simile però fatto in questo modo sempre diametista veramente bella ma è bello anche il bracciale cioè come sono fatti bellissimi adesso lo faccio vedere indossato eccolo qua pare l'occhio l'occhio di nasa al quello di protezione se fate caso assomiglia sono regolabili ovviamente c'è bellissimo proprio bello bello poi che su questi li levo a poi vi faccio vedere gli immagini allora prima di far vedere se cosa devo fare degli immagini va bene ma regalato questo quarzo bellissimo c'è col con le torrette piccoline diciamo che escono fuori qua a metà lucido poco a grezzo c'è è veramente stupendo è veramente bello quindi mi ha regalato questo quarzo qua poi mi ha regalato una piccola rosa del deserto veramente figa bellissima molto particolare carina e poi una piccola pirite che queste ragazze sono belli ce l'ho anche sono altre due ma molto più grandi ma la pirite è la pirite cioè guardate anche qua questi tocchetti così cubetti c'è è veramente stupenda bellissima ok adesso andiamo avanti poi ho preso quindi immagini quelli ah no poi mi ha regalato anche scusatemi una bustina con la salvia bianca che adesso non ce l'ho portata di mano sono tipi chicchetti della salvia bianca scusatemi di lavanda che quelli serve che ne so prendete una candela bianca li mettete sopra così fa anche il profumo della lavanda pure nei vestiti pure la portate dietro insomma molto utile poi ho voluto prendere questo bracciale qui agata sakura con tutti questi vedete fa tipo questi particolari fiorellini praticamente molto molto carina infatti si chiama agata sakura agata fiore guardate anche qui poi qui pare che c'è un piccolo cuoricino qua cioè è stupendo eccolo qua molto delicato veramente veramente carino poi come ultimo bracciale ho preso questo qui che è sempre l'ametista è semplice è molto semplice ma per me ha un bel effetto anche qui l'ametista c'è guardati i flessini che c'ha i riflessi bellissima adesso me lo vado a mettere allora ed è proprio quello stringete come vi pare ed eccolo così molto elegante molto carino dai è carinissimo proprio bello mi piace parecchio e quindi questo quindi per quanto riguarda bracciali abbiamo finito poi ho preso questo pendolo in amazzonite che è veramente stupendo eccolo qua c'era anche ossidiana nera e un'altra pietà che non mi ricordo del nome ma io mi sono innamorata dell'amazzonite ce l'ho anche come pietra proprio a forma di piramide anche grezza mi pare veramente bellissima e qua c'è la perlina però questa qui è plastica non è quarzoialino robe credo non lo so non ve lo so dire questo però a me sa di no è plastica eppure questa è la pietra vera ovviamente amazzonite quindi il pendolo poi preparatevi perché ho preso questo anello che ovviamente non è per tutti è quelli proprio patacconi giganti ma non lo potevo che non prende cioè guardate che bello con la drusa di ametista ovviamente regolabile cioè non potevo che non prenderlo ragazze è stupendo è veramente bellissimo guarda i riflessi che c'è l'ametista come lucida lo faccio vedere indossato eccolo qua cioè dopo questi sono gusti deve piacere ovviamente perché non è per tutti ovviamente per tutti nel senso per quanto riguarda i gusti è veramente stupendo dai è bellissimo top adesso invece passiamo ah prima di passare alle collane ho voluto comprare questo portagioielli li volevo prendere tutti a quattro perché c'era solo quattro tipi ovviamente uno cioè per esempio se uno prendeva questo quello preso io già era finito non è che ce n'aveva di più ecco ce n'aveva solo quattro cioè questo con i cristalli aveva questo con i cristalli con la strega con il gatto e con la luna quello con la strega non mi diceva niente ve lo prende anche quello con la luna e quello col gatto ma purtroppo non ho fatto in tempo e là ne ho presi però vabbè comunque uno sono riuscita a prenderlo che è bellissimo questo dei cristalli è un portagioie color rosa antico rosa carne bellissimo eccolo qua piccolino anche da viaggio molto carino qua mettete le collane qua gli anelli qua i bracciali o quello che vi pare insomma molto molto carino questo ovviamente lo dopererò quando dovrò andare in vacanza eccetera metterò qui le cosine allora come vi dicevo passiamo alle collane ne ho prese due che stanno qua dentro molto carina la scatolina ho preso questo qui che è fiore di loto e qui abbiamo l'agata blu lace che è un'altra a me dico l'agata mi piace da morire e mi piace tanto è bellissima qualche venatura bianca non so se lo potete vedere è veramente bello e poi ho preso questo carinissimo questa collana qui aspettate che qui mi sa perché questo è causato eh no c'è paura che faccio un casino che lo rompo speriamo di no si è incastrato vabbè praticamente abbiamo ah posto ha fatto abbiamo il quarzo rosa il quarzoialino guardate quanto è bello e qui il pendolino a cuoricino cioè è veramente stupendi sono bellissime adesso le lascio qui dentro perché sta scatolina mi piace quindi le lascio qui poi come ultima collana questa è veramente stupenda è rigida con la labra dorite vedete fatta così rigida con la labra dorite bianca che è veramente bellissima è un riflesso blu eccolo eccolo qua c'è questo qui guardate quanto è bello che c'è questo riflesso blu vedete qua no vabbè è bellissima ah anche qua dietro ce l'ha ecco non mi ricordavo no è bellissima rigida ovviamente proprio aiuto bella allora ragazzi adesso vi faccio vedere indossata solo questa collana e le due collane che mi ha fatto Sara poi vi faccio vedere le cose compreso da Mila Macramè eccomi qua ragazzi cambio di prospettiva almeno così sono un po' più vicina vedete meglio ah questa è la prima collana che mi ha fatto Sara che è quella con la labra dorite questa adesso arriva lunga fino a qua però dopo voi la potete anche accorciare però a me queste qui mi piacciono proprio lunghe mi piace proprio e che qui ci sta appunto il flash della labra dorite veramente veramente bella quindi questa è la prima questa qui invece è la seconda con la malachite bellissima anche lei molto è stata proprio brava Sara bellissime belle che poi ho visto su Shane che ci sono già il macramè così è già fatto voi basta che aprite solo sotto mettete la la pietra e richiudete cioè senza che avessate smattire farlo voi infatti lo volevo acquistare comunque questa qui quindi è la seconda collana eccomi qua ragazzi questo è il pezzo forte mi avvicino un attimo cioè guardate questa è la labra dorite con vedete dietro non so se vedete comunque quella rigida ovviamente la potete stringere anche di più adesso per farvela vedere cioè è veramente stupenda bellissima proprio guardate bella tanto adesso passiamo con le cose di macramè e poi vi farò vedere anche indossate quelle eccomi qua ragazzi intanto vi faccio vedere tre braccialetti che ho acquistato da lei allora ho acquistato questo qui con questo simbolo del chakra dove qua ci sono queste una due tre quattro pietre laviche lo faccio vedere indossato qui col cordoncino praticamente questo adesso è tutto largo lo aiuto lo mettete poi qua c'è anche le borchette carino e poi qua praticamente tirate se riesco io a prenderci vabbè adesso senza che lo sto a tirare però ve lo faccio vedere eccolo è così perché qua fa ombra ok cioè guardate è veramente carino bello bello poi ho preso questo che è di aspro anguria non l'avevo mai sentito dopo quando me l'ho fatto vedere mi sono innamorata bellissimo c'è anche qualche riflesso verde tipo qui un po' di verde e qui un po' di brillantini se vedete insomma molto molto bello anche questo eccolo qua cioè pare caramelle vi viene voglia di mangiarlo veramente carinissimo e poi come altro bracciale ho preso questo che questo è quarzo rosa poi c'è sta sempre il simbolo è delicatissimo questo è veramente carino però se riesco a metterlo ad ossi ecco cioè guardate è veramente carino col quarzo rosa molto delicato bellissimo bello bello adesso vi faccio vedere le collane pure queste ve le faccio vedere poi la fine indossate allora vi faccio vedere la drusa da metista che questo è pandan con l'anello c'è guardate quanto è bella questa è una drusa da metista più chiara con fronte a questa che è un po' più scura quindi vado a pandan praticamente quando metterò la collana questa metterò anche l'anello top queste con le foglie oro questa è la pietra ovviamente cioè guardate quanto è bella e ci sono anche qui queste sono le chips queste si chiamano le chips di ametista e guardate il cordoncino l'ho fatto ovviamente oro e lilla eccolo qua poi sempre qui voi ve regolate ovviamente ma è stupenda poi ho voluto prendere questa labradorite qua che nel sito mi ha colpito molto e questo in tutti in macramè come anche quella che avete visto prima guardate i grigori vedete come li fa è veramente bello e con queste tre pietruzze questa è la labradorite cioè guardate ragazze cioè come fate cioè come se può io sono innamorata queste non vedo l'ora di metterle e dietro pure c'è i flash no vabbè guardate dietro pure che intreccio qua è veramente bellissima e c'è la cordicina nera sempre appunto ecco qui regolabile potete allungare accorciare no vabbè bellissima poi ho preso un'altra labradorite questa è un po' più sul blu scuro quella c'è riflessi sul celestino c'è guardate questa sembra guardate così sembra una notte che è notte che fa ombra agli alberi i rami degli alberi non so se ci avete presente c'è ma guardate che roba è una roba spettacolare questa sflescia tanto bellissima e guardate come l'ha incorniciata con il blu e il dorato fatto in questo modo sempre qui regolabile qua così c'è top bellissima poi ho preso un'altra labradorite ma bianca c'è guarda che bellezza guardate che bellezza con tutto questo arcobalenino qua questo in mezzo guardate i fluscini dietro così cioè dai cosa io dovete di questa pure innamorata bellissima questa invece dato che labradorite è bianca ho fatto dorato e bianco fatto in questo modo sempre regolabile lacetti così dorati top bellissima poi ho preso la penultima collana questa è ametista chevron si chiama e poi c'è la labradorite bianca per questa guardate quanto è bella è macramè questa è l'ametista cioè guardate quanto è bella ametista chevron perché c'ha tipo le righe così è fatta tipo a triangolo si chiama chevron ecco qua lo vedete meglio bellissima e qui abbiamo la labradorite bianca guardate i flashini e qui tutto macramè come con l'altre qui ho fatto dorato e bello sempre regolabile qua con le perline ed è veramente stupenda poi vi faccio vedere il pezzo forte che per me sono tutti i pezzi forti e questa pure è una collana rigida con la rodocrosite guardate quanto è bella sta collana ragazze fatta così qua dorata poi lei ha fatto tutto il macramè guardate quanto è brava poi lei è autodidatta mi ha detto quindi vede i video su youtube e le realizza e questa è la pietra rodocrosite stupenda dietro è così è veramente bellissima adesso ragazze ve le faccio vedere tutte indossate ecco qua ragazzi vi riparto dalla prima che vi ho fatto vedere praticamente poi andando avanti adesso la faccio vedere così da lontano questa ecco la trusa dametista veramente bella con le chips dametista qua ovviamente regolabile dopo vedete questa la farò un po' più corta tocca e questa arriva qui adesso era per farvela vedere così cioè guardate che spettacolo veramente stupenda questa è la prima questa qui ragazze è la seconda questa l'ho fatta un po' più lunga cioè guardate voi andate in giro camminate e se vede proprio tutti i flescini della labbra dorite cioè ragazze cosa volete dire è bellissima cioè questa è la seconda top questa qui ragazze è la terza cioè guardate questa è stiflash guardate che roba è veramente stupenda guardate i flescini no vabbè cosa vi volevo dire questa è la terza cioè stupenda bellissima queste crede che è più belle anche che vanno sul lungo però dovete aver investito ecco proprio tanto scollato quindi io queste le metterò un po' più corte fino a che arrivato qua questa che arriva qua come anche la seconda che ho fatto vedere stupenda questa qui ragazze è la quarta questa è la labbra dorita bianca pure questa bellissima guardate i riflessini blu che si vede così da lontano così da vicino cioè ragazze è stupenda proprio è bellissima no vabbè sono stupende ste collane bella proprio eccomi qua ragazzi questa pure è stupenda questa è proprio bella bella cioè da lontano e da vicino con i flessini della labbra dorita ragazze è stupenda proprio è bellissima questa mi piace da morire bella adesso vi faccio vedere l'ultima cioè ragazzi guardate questa da lontano bellissima quella collana rigida c'è raga cioè guardate quanto è bella c'è no vabbè questa è veramente bella quanto mi piace no bellissima proprio la faccio vedere un po' da vicino no vabbè è bellissima tanto niente ragazzi vi lascio così con questa collanina io allora il video finisce qua se vi è piaciuto mettete un pollice in su sotto il video commentatevi fatemi sapere quale è stato il vostro pezzo preferito niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.